Il disboscamento è a buon punto e presto inizieranno i lavori dell'8-0, arteria attesa da oltre 20 anni che permetterebbe di collegare pesche con la strada che conduce a Castel di Sangro, evitando di entrare dentro Isernia, di percorrere la statale 17 direzione San Lazzaro e di alleggerire il traffico cittadino. Ma c'è chi non è d'accordo e manifesta per salvare il verde, le sorgenti di San Martino, i reperti antichi. Penso che i lavori bisogna pure farli per il bene del pubblico, del bene comune, ma qua il bene comune non lo vedo, io vedo bene di pochi sinceramente e vedo molto disastro perché questa natura io la conosco, questi posti io li conosco. Mio nonno veniva già da Miranda a coltivare qui la campagna perché c'è pure una sorgente e una fontanella e quindi allora c'era tanta acqua. Quindi penso che non bisogna fare i lavori a tutti i costi. E proprio in questo luogo, in questo punto preciso, sono state ritrovate delle ossa umane, ricoperte da quei cocci antichi. Non sappiamo nulla dell'entità, dell'importanza di questi reperti, non sappiamo dove sono, nessuno ci ha dato delle spiegazioni e anche dall'altra parte della strada sono stati rinveruti tantissimi reperti di epoca romana. Cittadini di Pesca, Isernia e Miranda si sono dati appuntamento per dire no ad un'opera che definiscono scellerata e per chiedere l'intervento dei primi cittadini, in particolare di Piero Castrataro che in campagna elettorale ha promesso che avrebbe approfondito la questione. Noi crediamo che anche prima che si facciano gli appalti ci siano tutte le condizioni per bloccare l'iter procedurale. Abbiamo fatto tutta una serie di eccezioni sulla questione idrogeologica, sulla distanza dell'opera dalle sorgenti, su questioni archeologiche ed altre questioni molto tecniche anche, per cui oltre al discorso di principio per cui noi non vorremmo che si spendesse una barca di soldi, 174 milioni di euro, per appena 5 chilometri e mezzo di strada, ci sono tutte le condizioni, dicevo, per poter bloccare ancora quest'opera. Faccio un appello all'Egambiente, al WWF, alla Lipu, a Italia Nostra, a che si uniscano insieme a noi per fare questa battaglia, ma anche che facciano anche le loro cose autonomamente. L'importante è mettersi tutti in campo per bloccare quest'opera, bloccare questo scempio. Per potercela giocare, per potercela giocare, io ringrazio...